La DS Medica da più di 30 anni si occupa di nutrizione, di mangiare bene, di mangiare sano e nonché di analisi della composizione corporea e quindi a tutto tondo rientrava in quello che è il protocollo della professoressa Cornia, Apnei4U. In particolare in questa occasione abbiamo presentato un apparecchio per la valutazione della composizione corporea. Il messaggio è ok la bilancia ma ancora più importante valutare e monitorare nel tempo le variazioni di peso dove sono, dove sono collocate. Stiamo perdendo grasso, stiamo perdendo acqua, stiamo perdendo massa magra e quindi l'impedenziometria ci permette questo. Portare la medicina, questo tipo di medicina in questi luoghi è molto importante. Ancora di più è le persone a cui ci si rivolge, che non sono solo e semplicemente operatori del settore, il classico medico seppur importante, ma ancora più importante i pazienti, tutti coloro i quali hanno modo di vedere e a parlare di queste cose e trasmettere questo messaggio.